Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il biotrituratore per trattore Bullmac Zeus 150 HPTO rappresenta una soluzione robusta e affidabile per l'industria agricola e forestale. Progettato per operazioni di triturazione complesse, offre prestazioni elevate nella gestione di rami e residui vegetali di grandi dimensioni. Il rotore ha un diametro di 756 mm e integra 4 coltelli rotanti insieme a un coltello fisso, assicurando un taglio preciso e rapido. Il sistema di alimentazione è gestito da due rulli idraulici che garantiscono un flusso costante e uniforme del materiale. Il biotrituratore è equipaggiato con un sistema di controllo completamente elettrico. Questo sistema assicura un'alimentazione continua e ottimale dei materiali, migliorando l'efficienza complessiva. La presenza di un pulsante di arresto di emergenza aumenta la sicurezza operativa. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. Grazie a tutti. Visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.